Qui vi presentiamo le 5 migliori caschi da moto per bambini. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Peg Perego Casco Vespa. Progettata per fornire maggiore sicurezza al bambino, collabora con la bici elettrica Vespa Peg Perego. In questo modo il giovane scopre le pratiche abituali giocando. È omologato e anche sicuro grazie alla sua decorazione interna per assorbire gli urti. È creato con fibbia antistrangolamento e visiera chiara. È disponibile in una dimensione dimensione 55 cm e banda di sicurezza 37 cm max. Passando al numero 4. Protectwear Motociclo Casco del Bambini. Ha uno stile dinamico che sicuramente non sarà all'altezza di entusiasmare i bambini. È conforme allo standard europeo EJ22.05 ed è realizzato con visiera antigraffione. Il rivestimento cellulare interno è staccabile e anche lavabile. Viene fornito completo di borsa e agger. Le dimensioni offerte, basate sulla circonferenza della testa, sono le più aderenti a AS 54-55 cm, XS 52-53 cm, 2XS 50-51 cm, 3XS 48-49 cm. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Ciro Casco JetRaisos Chic. È una versione gioiosa e anche carefree, dedicata alle donne che amano svolgersi su due ruote. Il coperchio, realizzato con prodotto ipoallergenico, è staccabile e anche pulibile per garantire la massima salute. Comodo e avvolgente, il casco di sicurezza ha una lunga visiera di copertura, che protegge correttamente dal vento. È semplice da posizionare e anche decollare. Almostat è top of our list at number 2. Armor Helmets H49 Casco Motocross. Questo copricapo integra la sicurezza con licenze dot e con un layout elegante e prodotti di alta qualità. Il rivestimento in polimeri termici garantisce un'elevata sicurezza e riduce sostanzialmente anche il peso pari a 1 kg. Il tutto a vantaggio del comfort. Il rivestimento cellulare interno è in parte staccabile e anche lavabile ed è anche piacevole da toccare grazie alla forma tridimensionale della testa. Il sistema diffuso d'aria garantisce un controllo ideale del livello di temperatura nel copricapo. Anche la chiusura Click & Fix può essere aperta e chiusa con una mano, con o senza coprimani. Viene fornito completo di una borsa porta. E infine il numero 1 della nostra lista. BHR Casco Pimbo Colore Rosa. Creato per i più giovani. È un copricapo demige approvato, felice e anche attento alla sicurezza. È dotato di una lunga visiera antigraffio che consente la massima sicurezza durante la guida. L'imbottitura extra interna è interamente rimovibile e lavabile, per garantire la salute generale. Il cinturino è creato con cambio micrometrico. Il sistema di flusso d'aria a tre punti consente una rapida circolazione sanguigna dell'aria. Può essere personalizzato con le 66 etichette adesive fornite per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.